Il mio libro è... È un racconto che parla delle donne, della forza che hanno le donne rispetto agli uomini, del senso della libertà che hanno le donne che è più forte di quello degli uomini, anche perché le donne non hanno mai conosciuto la libertà degli uomini e quindi la conoscono meglio. I tre personaggi si chiamano Rachel, Rosetta e Rocco, tutti e tre con la R. Per me è rinascita, nascere a una nuova vita. Questi tre personaggi devono cambiare mondo per cambiare il proprio destino. E ognuno di loro riuscirà a farlo avendo sulle spalle scritto, proprio tatuato, un destino che la vita gli ha consegnato. Rachel è destinata a rimanere una povera ebrea, Rosetta è destinata a essere una donna in un mondo maschilista e Rocco è destinato a essere un mafioso. Ma loro si ribellano a questo destino. A me piace molto il tema dell'emigrazione, anche perché sono italiano e gli italiani, che se ne dica, sono tutti migranti, anche se in questo periodo sembrano essersene dimenticati che la loro storia è fatta di migrazione. Le due grandi migrazioni italiane, oltreoceano, sono state in America, del nord a New York e a Buenos Aires. Ma a Buenos Aires tantissimo. Nel 1913 c'erano due milioni di abitanti e un milione erano italiani. E infatti tutti gli argentini dicono che ognuno di noi ha almeno una goccia di sangue italiano. Perciò l'Argentina è proprio il paradiso terrestre. È un soggetto che mi viene, è un argomento che mi viene molto facile, perché come uomo, come maschio, mi vergogno molto spesso del modo in cui noi ci comportiamo, del nostro modo di pensare. Per cui ho molto a cuore invece la condizione della donna, perché io appartengo a quella categoria di persone che ascoltano. E sono convinto che se la maggior parte di uomini, come Rocco nel libro, ascoltassero le donne, imparerebbero tantissime cose. Se invece di parlare ascoltassero, imparerebbero e vedrebbero nuovi mondi e nuove ipotesi per costruire un mondo migliore.